Raccontare l'isola d'Elba oltre le spiagge e il mare cristallino è questo l'obiettivo di Enjoy Elba, il primo magazine dedicato alle eccellenze elbane per scoprire ristoranti, produttori locali, ricette tradizionali, angoli meno famosi e personaggi che hanno fatto la storia dell'isola. Enjoy Elba, che ha una tiratura iniziale di 20.000 copie, è nata dalla collaborazione tra l'associazione Elba Taste e Vetrina Toscana, il progetto della regione che promuove l'anogastronomia. Un'altra occasione di raccontare l'Elba, il nostro arcipelago, le eccellenze della Toscana, un racconto che mette a disposizione di ospiti, turisti e tante sollecitazioni. È sicuramente una scommessa importante, la seguiamo con grande interesse, mi fa piacere che sia coinvolto in questo percorso Vetrina Toscana, uno strumento che in maniera efficace valorizza le tante eccellenze della nostra regione. Ma l'Elba merita un'attenzione particolare, i contenuti, i racconti, i dettagli, le storie, le esperienze, le capacità che possono essere messe a disposizione degli ospiti sono enormi. La sfida di Enjoy Elba non è solo raccontare i prodotti e le aziende, ma anche puntare sulla cultura di un territorio come attrattore turistico. La rivista, con testi in italiano, inglese e tedesco, sarà distribuita nell'agenzia di viaggi del Mappomondo in tutta Italia, in Svizzera e Germania e sarà anche scaricabile in formato digitale sul sito enjoyelba.eu. Si parla dei prodotti tipici, a iniziare dal vino e dall'aleatico, dei ristoratori, quella parte della ristorazione che lavora con un buon livello di qualità e di attenzione al territorio. E poi ci sono una serie, alcune interviste, alcuni personaggi sempre del mondo del cibo e del vino, come la signora Foresi, una storica azienda vinicola dell'Isola d'Elba o personaggi della cultura locale.